Benvenuti su Snip Road Trekking. Comincia da qui il nostro trekking virtuale di oggi che ci porterà a scoprire la bellezza della Valle dei Calanchi. La brezza del mattino ed una leggera nebbia che si posa dolcemente nei contorni dei Calanchi ci accompagnerà in questa escursione. Ci incamminiamo verso il fondo valle in direzione del rio Torbio. Come potete osservare dalla stratificazione del terreno sono presenti due formazioni distinte di origine argillosa a quella più antica, mentre lo strato superiore è costituito da materiale tufaceo e lavico. Come potete osservare l'azione erosiva degli agenti atmosferici quali uvata da frane e smuttamenti creano questo meraviglioso palcoscenico naturalistico. Arrivati in prossimità del rio Torbido, la vegetazione, vista la presenza del torrente, inizia a farsi più fitta. Rovi, canni, ginestre, olmi e rossa canina si presentano davanti a noi. Ripreso il cammino, dal fondo valle saliamo verso Civita di Bagnoregio, accompagnati da un panorama mozzafiato in uno dei punti più belli della vallata. Qui si comprende la maestosità delle profonde incisioni create dall'erosione. Come vele che si tendono, i Calanchi sembrano gonfiarsi al soffiar del vento in una danza che dura da milioni di anni. Sinuose e leggiadre, le stupende sculture create da madre natura si innalzano verso il cielo. Preso il sentiero tra erba e margheritine e lasciata alle spalle la maestosità della vallata, di fronte a noi appare Civita di Bagnoregio. Questo borgo è stato costruito circa 2500 anni fa dagli etruschi, arroccato su un crostone di tufo a sentinella dell'intera vallata. La vista del borgo ci annuncia il termine della nostra escursione. Grazie di aver condiviso insieme a me questo viaggio avvolti dalla natura e dalla storia.